ragazzi buona sera allora niente inizio questo video perché mi sono appena arrivati i pacchi cioè i pacchi il pacco diecinem a parte quello del caffè poi ci sta altro che mi deve arrivare però poi vi farò vedere anche quelli quando mi arriveranno naturalmente e niente vi faccio dire quello che ho preso a roberto vi dirò i prezzi sperando che su h&m sul sito di h&m si possano vedere allora io non so se vi ricordo avevo detto nel video precedente che ho avuto un problema con h&m che mi hanno detto che quei prodotti non erano disponibili allora vediamo un attimo il mio account sto vedendo un attimo se riesco a trovare i prezzi allora no misurati i dettagli sì vabbè non si vede sì ok ora ve li faccio vedere mano mano per prima cosa vi faccio vedere queste calzette che ormai già gli ho staccato l'etichetta perché li sto mettendo a lavare poi ho detto cavolo devo farglielo vedere alle ragazze e ho preso queste cinque paia di calzette molto carine queste qua sono dico subito il numero ecco perché sono così piccole 16 18 preso vabbè ho preso la taglia sbagliata e sono venuta a costare 5 euro e 59 poi vi faccio vedere perché queste qua le vedo un pochino piccole sì che c'è il piedino mi faccio vedere quest'altra che c'è il piedino qua così non lo so vabbè fa niente oramai presa poi un'altra cosa che ho preso questo vi faccio vedere già spoilerato quindi visto che questa è già spoilerata ve la faccio vedere ho preso questa tutina qui morì vedi un attimo a roberto per favore ho preso questa tutina qui che è fatta senza piedino quindi è comoda perché visto che le ho preso la taglia 80 e diciamo un pochino è grave grossicella però posso farli di sbottini con questi quindi ok e il tessuto è molto leggero c'è va benissimo anche per maggio non ci sono problemi questa qui l'ho pagata 9 euro e 99 alla fine è poco il prezzo quindi ok e della taglia odio scusate mi stavo dimenticando la taglia e la taglia 89 12 mesi poi gli ho preso questo pantalone qui questo pantalone con questa magliettina sopra questa qui molto carina e questa qua è taglia sempre 89 12 mesi anche questo è un tessuto molto leggero perché c'è ragazzi non so se ci fate caso se le vedete no non si riesce da telecamera ma io riesco a intravedere le mie dita quindi è veramente leggera e anche questa riuscite a sfruttarla benissimamente fino a maggio anche fine maggio e poi 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 gli ho preso questo pantalone sempre pigiamino con questa magliettina sì ragazzi ho fatto tutto topolino non mi dite niente ma voi sapete la mia passione per topolino e questa qui sempre 9 12 mesi 80 centimetri e questa qui l'ho pagata mi dico subito 17 euro e 99 e poi vabbè ragazzi ho preso la fascia che ora ve la faccio vedere ho preso questa fascia qui per me proprio tanto perpi che altro perché avevo soltanto quella fascia viola e ho detto ma ne prendo un'altra e l'ho pagata 2 euro e 99 no scusatemi 2 euro e 39 sì perché c'era lo sconto ui ho fatto un casino e l'ho pagata 2 euro e 39 comunque vabbè la volevo far vedere ma ho mandato tutto dietro ecco qua non so se riuscite a vedere non si vede una cippa non si vede vabbè andate a fiducia 2 euro e 39 e niente ora metto tutto quanto a lavare poi mi è arrivato anche il pacco oggi e il pacco il caffè e ah in teoria oggi c'era anche in consegna il pacco del battesimo perché ragazzi no ancora non mi arriva il pacco del battesimo e me lo state chiedendo in tanti di vedere come ho fatto gli inviti i menù però ragazzi non è che non ve lo voglio farvi dire è che non mi arrivano ancora e infatti stamattina è uscito un casino che mi sono pure arrabbiata con il corriere perché era in consegna oggi cioè in realtà era in consegna già dal 21 poi ogni giorno metteva sopra la consegna che io non c'era a casa cioè che la persona non stava a casa che io non c'ero quando invece non è vero ci sono sempre stata a casa e sicuramente ha detto che non c'era a casa perché qua avendo nevicato non è proprio passato in questa zona e per oggi non ce l'ho già visto più e mi ho fatto brutto ho detto ascolta a me quel pacco mi è importante ho speso tanti soldi per quel pacco ed è molto fragile perché alla fine stanno pure le scatole del battesimo le bomboniere quelle se si rovinano non posso dare la bomboniera rovinata quindi mi ha fatto pure un po' arrabbiare questa cosa però ha detto che venerdì mattina è in consegna e poi mi deve arrivare un altro pacco che questa qua sarà una cosa una novità che vi dovrò dire che è molto interessante per voi mamme e quindi poi vi farò vedere adesso non so se vi farò prima il video di quel pacco o se vi pubblicherò prima questo video non lo so però se lo pubblicherò prima quel video lì sapete già che cosa sto parlando però vabbè e niente comunque ragazze queste calzette le amo troppo sono troppo carine allora sinceramente le vedo piccole abbastanza piccole però ah dito c'è scritto disney non c'ho fatto caso e le vedo piccoline perché boh c'è le calzette che ho ora più o meno sono così guardate aspetta che sto cercando di infilarmi le dita dentro ma non riesco vabbè no ragazzi non ce la faccio comunque le vedo abbastanza piccole ma io ho convinta che avevo preso la taglia più grande perché lui di piedino se non erro lui porta il 12 13 non ricordo e quelle che c'ha sono il numero 11 però e queste sono 16 18 però ragazzi le vedo proprio piccole o sono tipo le calzette corte quelle che arrivano giusto giusto alla capiglia perché quelle che ha lui arrivano un po' più sopra della capiglia queste qua invece sembra proprio che arrivano alla capiglia perché il piedino oddio che stavo registrando non lo so perché qui lì va oddio come si chiama il tacco tacco punta non so come si chiama vabbè amore quello che va qui guardami facciamo le figure di cacca quello che va qui alla fine del piede è qua come si chiama questo qui come si chiama io ho detto tacco perché c'è la canzone che fa tacco punta tacco punta quindi ho detto tacco quindi per farvi capire vabbè ragazzi è questo qui guarda vi faccio dire questo guarda ok questo qui sembra che va qui e qua arriva giusto giusto la caviglia quindi non saprei però vabbè metto tutto il lavatrice ora meno così riesco a mettergli lì perché stasera gli voglio mettere quella di topolino perché io la sera gli metto sempre le tutine e perché allora la vedo abbastanza grande perché ragazze non so se ce l'avete presente mi arriva molto lunga però Roberto Roberto è alla fine abbastanza lungo quindi non posso dire no per me gli andrà un pochino più lunga no per me questa lì va bene perché alla fine Roberto mettendoli in piedi cioè è alto Roberto Roberto è lunghissimo quindi boh per me li vedo quando avviene poi vi farò sapere quando gliela indosserò se in questo video nel prossimo vedremo e niente quindi adesso ripeto vado a me tutto quanto e poi ci vediamo dopo perché devo andare anche a sistemare lì la cucina perché devo lavare i piatti comunque ragazze è scomoda questa fascia cioè più che altro sale per sopra io sono sfigata con le fasce allora quella viola che ho mi è troppo stretta e mi stringe tutto qui questa qui invece mi sale sopra qua come se andasse piccola parte che non è elasticità per niente per me te la ti devi ammazzare però vabbè tra quella che l'abbiamo pagato 2 euro e 39 vabbè è arrivato il pacco del battesimo del bambino allora l'ho aperto perché ragazze volevo assicurarmi che stesse tutto per avvisare la ragazza perché che me l'aveva fatta meno così stavo tranquilla e ora ve ne voglio far vedere visto che parecchi di voi mi avete chiesto cosa ho fatto e cosa non ho fatto in particolare per il battesimo del bambino l'unica cosa che vi do da dirvi una cosa che ci sta qualche peccuccia però non fa nulla vabbè fa niente fa niente allora si presenta qui dentro stanno tutte non le voglio rovinare più che altro capito ho avuto ho avuto diciamo un problema con questa ragazza infatti l'ho attaccata cioè l'ho attaccata l'ho contattata e mi l'ho detta perché ragazze non va bene quello che ha fatto però vabbè e qua poi stanno gli inviti no questi sono i menu cioè il problema perché quello è il problema dunque ragazze allora non fate caso alla fascia che c'è solo che ho i capelli comunque gli inviti e poi ci stanno i bigliettini che vanno attaccati alle scatole delle bomboniere allora vi dirò vi dirò la scatola si presenta aspetta che ho preso vedendo uno con il fiocco messo dritto giusto giusto io o meno così è una cosa fatta bene la scatola si presenta così ok si chiude con questo nastro fatto azzurro con i pua che va a richiamare i bigliettini però puoi provvedere meglio i bigliettini e niente qui c'ha questa questo disegno qui con scritto Roberto il topolino che si è sdraiato sopra la scritta di Roberto l'unico problema è che lei mi aveva detto che le le scatoline erano stampate cioè il topolino veniva stampato sulla scatola invece no ha preso un foglio l'ha stampato il topolino sul fiorellino ha ritagliato il fiorellino e ce l'ha attaccato sopra infatti in alcuni punti è semi staccato non so se riuscite a vederlo adesso non voglio peggiorare guardate qua che sta rialzato è semi staccato invece qui sta attaccato bene cioè da una parte sta attaccato male da una parte sta attaccato bene quindi questa è stata un po' una pecca però fa niente perché alla fine queste sono non mi interessa abitando perché sono per le confettate cioè quindi sarebbe che la gente prima di andarsene se vuole prendere altri confetti e portarsela a casa se li mette qua dentro chiude il fioc e se lo porta a casa e la scatola ve la faccio vedere che ve la apro però va bene diciamo che ci sono rimasta molto male con i menù se sentite Roberto piangere sta mio marito giù non vi preoccupate la scatola si apre qua sopra così e beh naturalmente da togliere il nastro e all'interno si mettono i confetti poi si va si tira e si qua il nodo e si richiude una semplice scatola chiusa con il fiocco però vabbè io anche se in realtà sì l'ho scelta io la chiusura così perché era l'unico modo più carino sennò si doveva chiudere con la mollettina e ragazzi non mi piace per niente però vabbè alla fine abbiamo scelto questo e lei mi ha fatto il piacere di prendermi il nastro con i puan in modo tale che richiamava tutto il tema sempre topolino e sto aggiustando il nastro perché comunque se ragazze queste cose devono stare ferme che poi vi volevo dire un'altra cosa ho cambiato data al battesimo il bambino era il 19 aprile però gliel'abbiamo spostata perché ragazzi non il 19 aprile era una cosa proprio impossibile poterla fare e l'abbiamo spostata il 28 di giugno quindi l'abbiamo totalmente spostata ora vi faccio vedere anzi vi faccio vedere i bigliettini a meno così finiamo con le scatole i bigliettini non li ho proprio aperti li ho visti così infatti sta ancora non so se si vede la non so la spilletta sì sì e tanto si vedevano esternamente senza che li apro poi li apro con le ragazze ok e i bigliettini si vedevano ma ne caccio solo uno perché tanto facciarli tutti inutile i bigliettini si presentano in questo modo questa è la parte davanti che ho scritto il mio battesimo dietro è fatto tutta qua e all'interno è fatto in questo modo così e sta scritto Roberto Mate 19 aprile 2020 e niente questa è la fine diciamo che è fatto bene diciamo perché in alcuni non so se vedete qua è corniciato di blu alcuni sotto sono qua è corniciato sotto no invece alcuni sono tutti corniciati come potete vedere non lo so ci sono stati un po' di errori io comunque sia da questa ragazza ho speso la bellezza di 90 o 94 o 96 euro comunque sia la bellezza di 100 euro ragazze il lavoro non mi è stato fatto proprio come ho richiesto però fa niente l'importante è che almeno a vedere sono discreti a vedersi poi la gente non è che dici va a guardare la cornice però io sono un tipo che gli piace fare tutte le cose perfette e e poi vedo queste piccole pecche a me dà una fastidio poi sono una che vede in tutto cioè deve essere perfetto tutto anche la minea la caula deve essere perfetta e questa cosa mi ha fatto un po' arrabbiare vi passo agli inviti che anche qua ho trovato delle degli errori infatti qua ve li caccio tutti perché ok scusate i messaggi senti potrei compiere tutto che cos'è poi ho visto che il mio telefono vi faccio vedere cioè capire il perché l'errorino allora questo mi sto trovando perché ci stanno alcuni che sono rovinati vabbè comunque non me li trovo tutti perché è inutile e vi faccio vedere il bigliettino questo qua sarebbe l'invito si presenta in questo modo è sagomato ho voluto farlo tutto quanto sagomato e davanti e dietro c'è il retro front sempre con la sagoma di topolino e all'interno si presenta in questo modo qui qui andrà scritto il nome della famiglia e vabbè qua sta scritto quello dove si faceva il battesimo in che ristorante in che chiesa anche se la data e l'ora e tutto quanto anche se la data è sbagliata perché qua sta scritto siete invitati per il battesimo di Roberto Mate se sentite piangere Roberto perché sta giù con il padre non vi preoccupate e siete invitati per il battesimo di Roberto Mate domenica 19 aprile 2020 purtroppo non lo è più alle ore 10 presso la chiesa parrocchiale della Sagra Familia e vabbè Sansevero dove lo faccio io vabbè gli ho messo la via Fortore la via della chiesa seguiranno i festeggiamenti presso il ristorante I Due Galli via della Torre via della Torre l'esina marina il ristorante e l'errore cioè l'errore qua non è un errore qua è un danno che è stato fatto e non è stato aggiustato e di questo danno ci stanno 5 la bellezza di 5 inviti allora adesso vi faccio vedere questi qua che sono quelli più visibili non so se vi riesco a far vedere vediamo dove è qua no non si vede mi si guarda le camere vi faccio vedere allora come prima cosa non fate caso perché qua stanno tutte le scatole non so se vedete qui sta strappato ed è restato riattaccato male non so se vedete questa riga che c'ha qua in mezzo la faccia il bambino e il topolino allora visto così sembra che non si vede il danno però visto dal vivo il danno si vede poi invece ci stanno altri 4 inviti strappati sulla faccia però questi qua non li ha cercati di riattaccare li ha attaccati direttamente strappati e li ha lasciati così però ragazzi si vedono tantissimo vediamo se questi qua si vedono questi qua allora sono più piccolini gli strappi però ragazzi si vedono ugualmente cioè guardate qua però vabbè fortunatamente sono 5 inviti e quindi non non voglio stare lì ad attaccare però ragazzi comunque sia sono cose che io le ho pagate però posso dire che sono usciti bene sul fatto dell'essere sagomato è uscito abbastanza bene e questo è l'invito ho potuto mettere il topolino con il dito in bocca perché Roberta sta sempre con la dita in bocca quindi diciamo che ci sta questa foto e ora siamo arrivati all'ultimo pezzo cioè quello più sbagliato di tutti una cosa che non si può non notare ma sono tutti quanti la bellezza dei minuti tutti sbagliati e sono questi qua ora vi faccio vedere me ne faccio vedere solo uno perché tanto alla fine tutti quanti sono uguali e quindi non li devo stare a cercare perché tutti sono così l'invito e l'invito il menu si presenta in questo modo sempre tutto sagomato topolino sempre retro front ed è fatto all'interno in questo modo allora voi direte che male c'ha è fatto bene allora come sta fatto come sta stampato il topolino all'interno qui ci ho fatto mettere la parte delle bevande e qui la parte del menu il problema non è vederlo così il problema è che così sembra che si legge ragazze ma non si legge niente cioè la scritta è talmente piccola che non si legge niente zero ragazze proprio niente cioè qua si legge tranquillamente perché vedete sta scritto più grande ma qua è scritto più piccolo che ragazze anche se ve lo voglio avvicinare non si legge cioè ragazzi non si legge niente sembra una scritta sfumata e quindi non si legge bene però sono fatti tutti così non è che dici alcuni no alcuni tutti così sono fatti purtroppo e quindi niente sto sto fregata veramente fregata e però oddio ho fatto volare però come è stato fatto sagomato mi piace però diciamo che su tutto tutte e quattro le cose sì perché sono uno due tre quattro sì tutte e quattro le cose c'è stato tutti quanti una pecca le scatole non sono stampate sono attaccate diciamo con un adesivo cioè in realtà non è un adesivo è un cartoncino e l'ha ritagliato e l'ha attaccato sopra la scatola i bigliettini anche questi sono stati tagliati ma sono stati tagliati male alcuni parti ha tagliato la parte azzurra la cornice azzurra alcuni c'hanno la cornice alcuni no alcuni sì alcuni no e i menu gli inviti scusatemi alcuni cinque o sei inviti sono rovinati che sono strappati e i menu sono sbagliati perché non si legge niente quindi tutto sbagliato 100 euro però buttati quasi nel cestino cioè io perlomeno sono del parere che tu fai questo lavoro gli chiedi di fare questo lavoro perlomeno allora vi faccio un esempio molto sciocco mi piaccia capire allora io e la mia amica facciamo questi quadretti perché vi sto facendo vedere questi quadretti perché ora vi voglio far arrivare a lo spiegarvi questa cosa cioè io da persona avrei fatto questo da io che faccio queste cose perché queste cose le faccio però purtroppo non ho roba di stampante queste quadretti più poterle fare se no l'avrei fatto io questi sono i quadretti che facciamo noi io e la mia amica allora come potete vedere questi fotomontaggi topolino messo qui scritto tutto quanto faccio tutto quanto io perché io queste cose le so fare e mi piace farle io sinceramente vi faccio l'esempio devo mettere la persona mi dice ascolta mi riesce a mettere lo scorpione qui io ti posso pure dire sì provo a metterlo lo scorpione però se vedo che lo scorpione mi esce male e si vede male o perlomeno si vede sfogato non si vede bene lo dico alla cliente dico ascolta cara io lo scorpione te l'ho messo gli invio la foto come uscito dico però per me lo scorpione esce sfogato cioè non mi piace come si vede che faccio te lo lascio così o cambiamo il tipo di scorpione cambiamo il tipo di carattere di scritta cambiamo cioè glielo dico poi se la cliente mi dice no guarda lasciamolo così perché mi piace lo stesso ok io te lo lascio ma se la cliente mi dice cambialo nel mentre l'hai cambiato e gli hai fatto il lavoro come lei realmente voleva non che tu mi dici mettimi lo scorpione faccio lo scorpione prevo tutto quanto prendi in via spedisci e amen e poi la cliente rimane con una cosa fregata dice scusa perché non mi hanno detto che non si vedeva bene e giustamente la cliente si può arrabbiare la stessa cosa è stato il menu la ragazza cosa mi ha fatto mi ha fatto questo me l'ha fatta la foto però nella foto si vedeva così quindi in automatico uno sembra che si legge infatti sembra che si legge ma voi riuscite a leggere qualcosa di quello che sta scritto? no perché non si legge niente è una merita cippa forse qua sì perché io qua perlomeno leggo e qua che non leggo niente cioè qua mi sembra una striscia continua ragazze e però vabbè io se ero al posto suo avrei detto perché lei la scritta il carattere me l'ha fatto scegliere a me mi ha fatto tanti tipi di bozze di caratteri di scritte che potevano potevano mettere io ho detto guarda mettimi questa qui mi piace più questa scritta qui il problema è che lei una volta che l'ha stampato se vedeva che il menu era troppo piccolo per questo menu per quello che sta scritto qui ed è uscita la scritta troppo piccola me lo doveva dire dire ascolta guarda che o ingrandiamo il menu lo facciamo più grande in modo tale che la scritta si legge bene o perlomeno cambiamo il tipo di scritta se lei mi avrebbe detto che c'era questo danno qui che non si leggeva io avrei cercato di fargli fare cioè avrei cercato gli avrei fatto fare il menu più grande cioè capite perché questa è la grandezza 20 per 15 invece questi sono 15 per 15 sono più piccolini infatti come potete dire però gliel'avrei fatto fare più grande il menu capite e a me questo mi ha dato fastidio mi ha dato veramente tanta rabbia questa cosa che comunque sia io gliel'ho pagati cioè io ti pago un lavoro ti pago una cosa ma come te la dico io me la devi fare non che me la fai sì come te la dico io però come esce senza dirmi nulla cioè lei ha visto che non si leggeva perché cavolina non me l'hai detto che non si leggeva topolino ma fino a mo piangevi come un disperato papà che ti ha messo la bandana ti ha messo fino a mo piangevi come un disperato che cos'è che guardi topolino guardi che cos'è mamma topolino no non si può prendere questo mamma tu lo rompi e te lo metti in bocca e poi ti puoi anche tagliare che cos'è mamma che cos'è no non si può prendere e guarda le di ciao a tutte zie ciao guarda qua mamma ehi guarda qua guarda qua ma guarda le scatole comunque si ragazze niente ci sono rimaste male un po' in tutto però fa niente che dobbiamo farci e l'importante che diciamo le cose importanti le sacume queste cose qui stanno fatte bene la scatola non mi importa più tanto ragazzi perché alla fine è una confettata quindi perché io faccio la bomboniera con i confetti attaccati alla bomboniera questo è una cosa a parte nel senso se uno vuole io sui tavoli metto questo anche se si vuole soltanto mangiare i confetti a tavola se li metto qua dentro i confetti mano a mano se li prende se li mangia proprio per non mettersi sulle mani e mangiarsela con le mani quindi è un po' più elegante poi se qualcuno si vuole portare a casa i confetti si li mette qua dentro chiude la scatola e si li porta a casa più la bomboniera con i confetti quindi questa è una cosa in più quindi non è che mi interessa più tanto come uscita la scatola cioè non mi importa più tanto quello che mi interessa di più ragazzi veramente è il menù perché l'invito è una cosa che tu porti leggono assi belle poi lo mettono nella dispensa il menù invece è una cosa importante perché uno dice vediamo che ci sta da mangiare e non leggono non si capisce niente quindi quella è la cosa brutta i bigliettini non mi importa neanche il fatto della cornice perché alla fine ragazzi chi è che ci va a notare cioè chi ci fa caso a volte la gente neanche lo apre il bigliettino a neanche a vederlo quindi esternamente e esternamente sono fatti bene e poi non tutti sono fatti senza cornice cioè ne saranno 4-5 penso non lo so io non li ho controllati però da vederli qua così non sembrano rovinati tutti quanti non lo so li dovrei stare a controllare una ad una comunque tu non li puoi prendere e non vedere che allunghi la mano e niente ragazzi chiudo qua questo video perché tanto vi ho fatto vedere se è il pacco 10 neanche questo vabbè ragazzi vi saluto e se siete arrivati fino a qui mettete il pacco regalo o un pacco adesso vediamo che mochi scelgo di mettere però mettiamo un pacco e niente se vi è piaciuto questo video mettete un pollice in su attivate la campanellina iscrivetevi al canale se vi va seguitemi su Instagram chiamo meri-basso stories mi mando un bacione grande grande e anche Roberto fai mami ehi Roberto fai un bacione grande grande a tutti io vado a cambiarmi il pannolino perché mi sono cioè non mi sono associato però ho fatto la caccona perché puzzo puzzo vero? puzziamo mamma? puzziamo? si puzzo mamma cambia te e mi vado a fare una doccia anche io vabbè ragazze vi saluto c'è i capelli che stanno veramente attaccati sembrano rasta c'è ragazze no vabbè c'è i capelli distrutti hanno soltanto bisogno di una tagliata non vedo l'ora che passi i matrimoni di mia sorella me li sto tenendo lunghi apposta apposta solo per i matrimoni di mia sorella perché devo fare l'acconciatura alta e mi servono i capelli lunghi se no mi tocca mettere l'extension quindi no e dopo i matrimoni di mia sorella faccio tac proprio a fargli respirare un'altra volta i capelli vero vabbè ragazze vi saluto un bacio muah